musica ma che fai mi prendi per il culo? che ieri ho parlato e non mi hai detto niente che al giudice hai mandato quella relazione di merda ma chi sei tu come ricevessi cosa? ma chi sei tu? a rosa poi l'edicatoia a rosa poi che hai fatto la soccolo con uno che sei fatto sciopunire e la soccola la soccola eh no signora chiudete sto balcone sto sipario qua che dove mamma mia ah allora è vero che le stava guardando le tette eh? si si anche il culo anche il culo sapete che pure mia mamma si chiamava Cecilia ma è morta mi tumore sei anni fa non pensare che il mio lavoro sia tanto diverso dal tuo no anche voi prendete pezzi di verità e con quelli pretendete di spedire le persone all'ergastolo ritornò a telefonarmi al negozio perché sapeva che mia madre mi controllava il cellulare ma io non l'ho più rivisto e la vogliono se mi sembienze non la voleva a Ciro gli volevo indica sulla frate Bicino poi me l'hai detto anche tu no? davvero? si e ti da fastidio? un po' si si perché? perché? perché forse avete ragione sono detto io non mi muovo più se non c'è lavoro io non lavoro se lavoro mi devi fare diventare matto che mi prendo la calciculo io non lavoro più io voglio straiarmi una buona volta voglio spiegarmi voglio parlare voglio l'erba